Per me la piazza Vino non c'è muoia, ma la piazza è sopra, e l'autoda è muoia. Quasi sei mesi che l'aspettano su Orno. L'apertura di agaccia è geniale, un l'aereo è ben mancata ben ombra. Ultimi riparadivi, di più in più i gaccia ori sono aiutati dai GPS che permettono di ritrovi i gani in ogni luogo e di valistare in Dauatuda. Una tecnologia nuova che permette a quelli che capiano di provvita di più. Qui, in Sant'Andrea e Osio, la squadra di gaccia conta forse uno dei più anziani, gaccia ori è gossica. A 90 anni, Andio Lunanucci non ha mai mancato un'apertura. Io castigliavo tutto, pernici, colombi, lebra e gignali. Ai tempi era più pulito. Quattro ore dopo, un gignale maestro si aspetta sempre. I gignali sono pochi, ma per il primo giorno non compremmo. Pensiamo sempre che la dà la sorte, non lo che lascio, e la dà la sorte. Allora, siamo attenti e passa subito, il tempo passa subito. Quest'anno 169 nuovi permessi di gaccia sono stati attribuiti. Le squadre di gaccia, Berenna, faccia così, caccia ori nuovi. Il scopo è di adunirci tutti i giorni qui, per fare una gaccia di gata, un bel spuntino, con qualche magagna. Per quelli che non sono passionati di gaccia o gignali, le giocheranno appena i bagenze, sino all'abertura generale, o due settembre. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS